Impegno sulla carta facile domani per l'Atletico Gela nell'ambito della 24esima giornata del torneo di promozione. I gelorossi saranno di scena abbattiati contro una squadra, lo Sporting, che annaspa in gradatoria al penultimo posto con 15 punti. Proprio domani i ragazzi allenati da Simone Pardo, vincendo così come si spera, potrebbero portarsi a soli due punti dalla capolista Sicula Leonzio. I lentinesi infatti osserveranno un turno di riposo. Ecco perché c'è un solo obiettivo da conquistare e si chiama vittoria. L'Atletico Gela sa di non poter sbagliare. Il risultato di domani è di straordinaria importanza. Vincendo, come dicevamo, fama e compagni si porterebbero ad un tiro di schioppo dei bianconeri e con lo scontro diretto ancora da giocare. E' per giunta in casa davanti al pubblico amico. La partita di tutte le partite è prevista per domenica 15 marzo prossimo. All'appuntamento di domani i gelorossi si presenteranno forti dal successo conseguito nel derby con il Macchitella. Gioca in casa invece il Gela. Per la formazione di Totò Brukuleric c'è da consolidare il terzo posto in classifica. Alle 15 i biancazzurri, reduci della vittoria conseguita a Comiso, ospiteranno il Palazzolo. L'unico vero traguardo per il team, tanto caro al presidente Angelo Tuccio, appare la terza piazza che permetterebbe di disputare i successivi play-off da una posizione di partenza privilegiata. Ma una strizzatina d'occhio a qualcosa di più ambizioso, matematica alla mano, non è del tutto preclusa. Anche se un passo alla volta è necessario che il Gela torni a dare continuità ai suoi risultati positivi. A cominciare appunto dall'impegno di domani contro il blasonato Palazzolo. I siracusani, tra alti e bassi, rappresentano comunque una delle migliori formazioni del torneo. I geloverdi infatti non nascondono le proprie emissioni e toccherà al Gela provare a ridimensionarne le belleità. Domani ancora assente il bomber Saro Genova che sta lentamente recuperando dall'infortunio alla mano e potrebbe tornare utile e giusto per la disputa dei play-off. L'attacco biancazzurro peserà nuovamente sulle spalle della coppia Mezzasalma-Ascia con Alma Guastatore dietro le due punte. Ad arbitrare la partita di domani è stato designato un direttore di gara Ligure. Si tratta di Maurizio Poletti di La Spezia. Nel campionato di B1 maschile di pallavolo, derby l'unico stagionale per la make-service Gela che domani alle 18 renderà visita all'Elettro-Sud Brolo. Si tratterà di una sorta di testa-coda del girone C dal momento che i giolesi sono terzi in classifica mentre i messinesi occupano la penultima posizione in gradatoria. Occasione, almeno sulla carta, per cancellare un periodo assolutamente negativo in casa biancazzurra. Il sestetto, allenato da coach Fabrizio Marano, ha inanellato una serie negativa assai preoccupante. Tre sconfitte esterne di fila, quattro nelle ultime cinque gare. Il team, dal presidente Rosario Faraci, è reduce dalla sua prima battuta d'arresto casalinga visto che domenica scorsa il paraligatino è stato violato dopo due anni di assoluta imbattibilità dal club Italia-Roma. Uno stop pesante non solo nel risultato ma anche nel morale della squadra gelese.